Oh, che telefonata piena di amore! Ma è il commercialista! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Non vi preoccupate, non era il commercialista! Che saluto, sai che mi stavo vedendo! Mi è venuto in mente perché poco fa ci ho parlato, quindi ho detto lui! Ma questa era solo una scusa per farvi vedere la mia super cover di San Valentino! Si apre oggi infatti una nuova rubrica per Arte per Te! Make your cover! Facciamo qui da questo momento, quindi nascerà questa rubrica in cui ci diletteremo a creare le cover per i nostri smartphone! Oggi cominceremo con una realizzazione assistita, nel senso che per fare questa cover ho scelto queste cover traforate che si usano tantissimo in questo periodo e che a me piacciono e non piacciono perché appunto dal traforo passa qualunque cosa e per esempio con mio figlio, con le dittine impertinenti, passa tutto, cioccolata, biscotti, dice si si può mettere la plastichina dietro ma se io voglio una cover, voglio una cover che come dice il termine copra! E allora la renderò coprente io come è! Venite con me, spostiamoci sul piano da lavoro e incominciamo insieme questa nuova rubrica! Ecco l'occorrente per creare la prima delle tante cover che faremo insieme! Oggi sarà un lavoro più semplice di quelli futuri perché cominciamo a conoscere i materiali! E allora ho scelto una cover, visto il periodo di San Valentino, che ho preso da H&M a 6,95€ ed è in pratica già carina di suo, come prima volta volevo prendervi qualcosa che fosse già grazioso quindi anche se non viene splendida, splendente, per allenarci andrà più che bene ma al che vada non avrete rovinato i soldi, togliete il lavoro che abbiamo fatto fino a ora e la usate così che è già carinissima! Solo che di queste cover non mi piace il fatto che siano traforate quindi se uno non ha la foderina retrostante per l'iPhone o per il vostro cellulare questa è per l'iPhone 4S in pratica comunque la sporcizia entra comunque e io con un figlietto che va con i colori ovunque non me lo posso permettere e allora ho trovato un metodo per usarla in maniera proprio coprente altro materiale, forbici e forbicine e il taglia balza una penna o una matita, quello che vi capita prima poi ho preso degli strassetti dai cinesi, questi così, di due misure differenti di solito c'è anche la misura micro ma non l'ho trovata purtroppo quindi mi sono accontentata solamente dei medi e dei mini poi ci sono anche quelli più grandi ma per questi cuoricini così piccoli mi sembravano eccessivi e li ho presi rossi, voglio fare la cover con gli strassettini rossi 50 centesimi queste confezioni piccoline l'una un pezzettino di plastichina adesiva quella quadrettata dietro del glitter rosso sempre dei cinesi anche questo 50 centesimi una pinzettina per sopracciglia quindi una mascherina che è appunto ricalchi quella che è l'orma del vostro retro telefonino o meglio ancora quella che è l'orma del retro della vostra cover in modo che voi sappiate quanto grande deve essere lo specchietto che vi dovete fare questa per chi ha l'iPhone S4 la troverete sulla mia pagina Facebook la cover di San Valentino chiamiamola così bene, cominciamo subito il nostro lavoro prendiamo la mascherina e tracciamo il disegno della cover sul retro della carta adesiva quindi uno naturalmente non dimenticatevi l'oblò per la videocamera video fotocamera ora è, a questo punto ritagliamo tutto io mi metto sulla scatolina della custodia e col tagliabbalza incido l'oblò piano piano, qui senza fretta perché qua si combina di disastri quindi fate quello che potete col tagliabbalza o se non riuscite prendete delle forbicine affilate quelle da decoupage, diciamo così ritagliate fatto cominciamo subito adesso stacchiamo la pellicola dalla carta giriamo la nostra cover nel verso giusto e adaggiamo sempre nel verso giusto la pellicola al suo interno vi consiglio di appoggiare prima l'oblò della videocamera in modo che sarete certi di aver attaccato il tutto ben dritto piano piano fate aderire ben bene tutto a questo punto questa parte della foderina è coperta e da questa parte invece è tutta appiccicosina quindi aspetterà l'emissione di tutto quello che vorremmo mettere per i più frettolosi di noi andrebbe bene anche spolverizzare sopra il glitter battere ben bene e fare così e ora è finito io invece voglio divertirmi un po' di più quindi userò anche questi micro strassetti ok e cominciamo preleviamo lo strassetto e posizioniamolo sulla cover così strassetti piccoli e strassetti grossi ok 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 Ok, e procedete così a riempire tutto. Grazie a tutti. Benissimo, ho apposto l'ultimo brillantino dopo un lungo lavoro di pazienza. Adesso questi spazietti neri vanno colmati e vanno colmati a suon di glitter. Siamo pronti e allora, tac tac tac, polverina su tutto. Eh, questa è la parte più divertente. Perfetto, su tutto, tutto. Quindi, schiacciamo bene, facciamo andare proprio in tutti gli interstizi, tenete da dietro e su ogni cuoricino pressate un po'. Tenete da dietro e pressate un po'. Così. Ovviamente poi questo glitter recuperatelo, eh. È utilissimo per altre duemila cose, quello che si stacca. Per un paio di giorni perderà glitter, ve lo anticipo, ma è normalissimo come quando comprate le cover con i glitter, anche quelle perdono i glitter, i primi due giorni di utilizzo. Poi, piano piano, si stabilizzerà. Olè. Battiamo ben bene. Togliamo l'eccesso e voilà, la nostra cover è finita. Eccola qui, la nostra cover all'interno del cellulare. Vedete? Io ho ancora le mani tutte zozze, quindi sto zottando tutto, ma vedete che è troppo troppo carina. Vi lascio alle foto. Avete visto che è venuta carina? Allora, da me sono passate già 7-8 giorni da quando ho fatto la cover. E ancora regge. Dipende molto la riuscita, del tipo di carta trasparente adesiva che andate ad utilizzare. Ce ne sono alcune più tenaci, altre che fanno veramente schifo. E allora, per il sì e per il no, e per non sbagliare, per non sprecare tutto il lavoro, vi consiglio di fare una cosa. Mettete la plastichina, quindi nei buchini, versate un pochino di vinavil su tutto. Andate a inserire le pietroline, quindi andate a mettere il glitter e naturalmente state attenti a non sporcare fuori, perché se usate la vinavil, se sporcate fuori rimarrà afficcicato anche fuori. Quindi fate asciugare e solo dopo scrollate l'eccesso di vinavil in modo che ci sia la duplice combinazione tra la colla dei brillantini e la colla della carta trasparente. E in più, la vinavil assicurerà per sempre i vostri cristallini, che come tutte le cover, prima o poi si staccheranno con l'utilizzo. A me una cover dura circa due o tre mesi, di solito, di quelle comprate, quindi non posso pretendere di più da quelle che mi faccio io. Però, pretendo che mi vengano a costare meno, o che alla fine io tolga questa e decida di fare i cuoricini di un altro colore, multicolor, come mi pare, e che ce l'abbia solo io. Questa è così, quindi assistita, ma le prossime le faremo proprio tutte, tutte, fatte da noi, con tecniche sempre diverse e con materiali diversi. Naturalmente io lo farò solamente su un iPhone S4, perché quello, però, potrete trasportare queste idee anche su tutti i tipi di cover adattabili ai vostri cellulari. La situazione è la medesima e basta applicare la tecnica su cover differenti. Bene, spero che questa rubrica vi appassione e vi piaccia. A me piace l'idea, da oggi in poi, di avere cover personalizzate fatte da me. Da ombretta ed arte per te è tutto, arrivederci alla prossima e dream!